La linea ottica purtroppo secondo me è un'illusione di Torazzi, magari in buonissima, ottima fede. Quando un sistema è partitocratico, cioè mette al centro le strutture, i partiti, le burocrazie, non solo quelle politiche, sindacali, imprenditoriali, e non c'è l'individuo come invece negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, con la sua responsabilità, poi dopo la corruzione diventa un fatto sistematico, a prescindere dal fatto nord, sud, questo è stato il grande, secondo me, fallimento storico della Lega, cioè illudersi che basta decentrare il potere per farlo onesto, e invece la dimostrazione di quello che vediamo adesso nelle regioni è che regioni rette dai finanziamenti senza controllo, dalla partitocrazia, dalle liste bloccate, o dalle preferenze clientelari che cambia poco, si comportano a Milano, a Venezia, a Torino, come a Roma, a Napoli, a Palermo, dopodiché in regione... Costa la metà la sanità lombarda, capato, costa la metà, dopo di che... Poi parliamo di centinaia di miliardi, capato... Dopodiché, Torazzi, in regione Lombardia abbiamo un consiglio regionale eletto, grazie alla più grande truffa elettorale che noi abbiamo denunciato, documentato, mille persone sono già andate in procura a dire già, dopo che noi l'abbiamo denunciato, che è stata falsificata la loro firma, ti risulta male, poi se hai qualcosa da dire, vediamo così, la vediamo in altra sede, noi abbiamo scoperto una truffa elettorale senza la quale il governatore Formigoni non sarebbe presidente della Lombardia, quindi la linea gotica ho paura che non regga più da tanto tempo. Grazie.